Una pecora nera nel bel mezzo del Pecora Day, l'evento della Coldiretti che si è celebrato mercoledì all'Aquila, a cui hanno preso parte migliaia di persone. Ci riferiamo a Dino Rossi, portavoce dell'Associazione Allevatori Cospa, che denuncia che pur essendo anche io un allevatore, appena arrivato davanti all'ingresso sono stato avvicinato dagli organizzatori, che hanno subito allertato le forze dell'ordine, come se io fossi stato un appartenente all'ISIS. Non potevo entrare, mi è stato spiegato, in quanto non sono socio della Coldiretti. Ad aver avuto l'Alt sono stati in tanti, assicura poi Rossi, persone che avevano appurato a mezzo stampa dell'evento e che si sono visti chiudere la porta in faccia. Forze allevatori veri che volevano lamentare le loro ragioni legate alla crisi zootecnica per i finanziamenti AGEA, che tardano ad arrivare, ma non le cartelle di Equitalia, ma soprattutto per le società del nord che seguitano a speculare sulle nostre montagne. Non ci fanno entrare perché temono il confronto, perché questa è una festa, secondo me, una festa per festeggiare la fine dell'agricoltura. Ovvero? È ovvero, qua le aziende stanno chiudendo giorno per giorno, allora se ci va uno che gli va a dire le cose come stanno, non mica tanto gli va bene. E di questo non se ne occupa la Goldiretti? Ma non credo, questi dicono che tutto va bene, tutto è a posto, ma qua le aziende non hanno preso ancora i soldi della AGEA, i Prati Pascoli vengono nelle associazioni dal nord e vengono a prendere i soldi sulle nostre montagne, tutto bello tranquillo, mentre poi le nostre aziende sono costrette a chiudere i patenti, ma io parlo di aziende vere, quelle che vivono solo ed esclusivamente l'agricoltura.